La caccia all'uomo galattico continua. Sebbene gli esperti siano già riusciti a identificare più di 5300 esopianeti in oltre 3900 sistemi, il gemello cosmico della Terra continua a rimanere nell'oscurità. Ma anche se non è stato ancora trovato nessun corpo celeste che possa essere classificato come chiaramente simile alla Terra, questo non significa che non ci siano candidati molto interessanti a tal proposito. Recentemente gli esperti hanno riempito un punto vuoto nelle mappe stellari che potrebbe rivelarsi la Terra 2.0 nel corso di future indagini. Vuoi conoscere il retroscena di questa entusiasmante scoperta e quali esopianeti potrebbero essere abitabili? Allora assicurati di darci un pollice in su e di iscriverti. Kepler 1649-C Come tutti sappiamo, le osservazioni scientifiche del telescopio spaziale Kepler dovevano cessare il 30 ottobre 2018. Tuttavia, alla luce dell'acclamato dispiegamento del telescopio James Webb, non dobbiamo dimenticare che l'analisi dei dati raccolti nel corso di nove anni è ancora in pieno svolgimento. Nel corso di questo processo è stato recentemente reso noto quali segreti mozzafiato promettono ancora le vecchie immagini di Kepler. Secondo un rapporto ufficiale della NASA, i ricercatori hanno trovato prove di un esopianeta nel corso del loro avvistamento, che è grande circa quanto la Terra e per di più si trova nella zona abitabile del suo sistema natale. Ancora una volta, per rinfrescare la memoria, nel contesto della ricerca astronomica per zona abitabile, si intende l'intervallo di distanza in cui un corpo celeste deve trovarsi rispetto alla sua stella madre affinché li possa esistere acqua in forma liquida e duratura, o in altre parole, è possibile che vi siano le condizioni per lo sviluppo di una vita di tipo terrestre. Identificato chiaramente come un pianeta roccioso con un raggio pari a 1,06 volte quello della Terra, il mondo appena scoperto è stato descritto come il pianeta più simile alla Terra, che il telescopio spaziale Kepler abbia rilevato finora. E chi, meglio del direttore del K2 Science Office del SETI, può valutarlo? Per rispondere alla domanda se il corpo celeste distante 300 anni luce da noi sia teoricamente abitabile o eventualmente ospiti forme di vita extraterrestri, ci sono però ancora alcuni fattori da chiarire. Innanzitutto c'è la questione del clima. Sebbene siano stati raccolti pochissimi dati al riguardo, i ricercatori ipotizzano che il pianeta presenti temperature simili a quelle della nostra patria terrestre. La composizione atmosferica del corpo celeste è ancora del tutto sconosciuta. È certo che Kepler 1649c ha bisogno di soli 19 giorni e mezzo per orbitare intorno la sua stella centrale, una lana rossa. Siamo curiosi di sapere quali dettagli interessanti gli astronomi devono ancora scoprire riguardo all'abitabilità dell'esopianeta. Non appena ci saranno nuove scoperte, ti informeremo. TOI-700E Cosa c'è di più eccitante della scoperta di un pianeta potenzialmente abitabile? Naturalmente, l'identificazione di non uno, ma ben due corpi celesti che potrebbero essere molto simili alla nostra casa terrestre. Nel 2020, gli esperti hanno annunciato di aver scoperto TOI-700D, un pianeta roccioso delle dimensioni della Terra, che orbita intorno alla sua nana rossa all'interno della zona abitabile. Ma recentemente è emerso che questo non è affatto l'unico mondo potenzialmente abitabile del sistema corrispondente. Nel corso di una nuova analisi dei dati del telescopio TESS, i ricercatori hanno registrato alcune ombre rivelatrici, appena percettibili, nella curva di luce della stella ospite. È apparso subito chiaro che si trattava delle tracce lasciate da un altro corpo celeste precedentemente sconosciuto mentre passava accanto alla sua stella centrale, con una dimensione corrispondente a circa il 95% di quella della Terra, molto probabilmente si tratta di un pianeta roccioso. Con un periodo orbitale di circa 28 giorni, TOI-700E si trova proprio nella zona abitabile del suo punto fisso stellare. Tuttavia, poiché è esposto a una irradiazione solare pari a 1,3 volte quella terrestre, si può concludere che le temperature superficiali sono leggermente più alte delle nostre. Un clima temperato, compresa l'esistenza di acqua liquida permanente, sarebbe abbastanza concepibile su TOI-700E. Tee Garden Bee Per collocare la nozione spesso utilizzata di somiglianza con la Terra in una scala appropriata, alcuni collaboratori dell'Università di Porto Rico hanno introdotto il cosiddetto indice di somiglianza con la Terra. Come riferimento principale della possibile abitabilità servono anche qui la posizione e la temperatura superficiale di un corpo celeste, completate dalla sua massa, dal flusso di energia e dal raggio. Con un valore di 1, la nostra Terra è logicamente la misura di tutte le cose all'interno di questa classificazione, alla quale vengono paragonati tutti gli altri mondi extrasolari. Mentre i già presentati TOI-700D e Kepler-1649C si piazzano al secondo e terzo posto, con un ESI rispettivamente di 0,95 e 0,93, nessun altro pianeta conosciuto è così simile alla nostra Terra come T. Garden B. Situato nel regno dell'omonima nana rossa stella di T. Garden, il suo compagno planetario riceve circa lo stesso irraggiamento stellare della Terra. Con una massa di 1,25 masse terrestri, l'esopianeta è un po' più pesante della nostra casa terrestre. Tuttavia, con i suoi 8 miliardi di anni, ha circa il doppio dell'età. Questo porta a una conclusione. Se T. Garden B offre davvero condizioni favorevoli alla vita, le sue ipotetiche creature avrebbero avuto abbastanza tempo per evolversi. Inoltre, supponendo che esistano davvero e che siano forme di vita intelligenti, potrebbero presto intravedere il nostro pianeta natale blu. A partire dal 2044, la Terra passerà direttamente davanti al Sole, visto dalla stella di T. Garden. TRAPPIST-1D A circa 40 anni luce da noi e situata nella costellazione dell'acquario, TRAPPIST-1D orbita torno a una stella nana. Nel dettaglio, però, il corpo celeste è in ottima compagnia, dato che in questo sistema sono già stati identificati un totale di sette esopianeti. La misura in cui TRAPPIST-1D potrebbe fungere da rifugio per la vita non è stata chiarita in modo definitivo, ma è certo che il pianeta si trova appena al di fuori della zona abitabile. Tuttavia, i ricercatori ipotizzano che abbia una rotazione vincolata, il che significa che ruota sempre da un solo lato verso la sua stella ospite. Tra il lato caldo del giorno e quello decisamente più freddo della notte, potrebbe esistere una zona con temperature superficiali medie. Con circa 0,79 raggi terrestri e 0,39 masse terrestri, un po' più piccolo e più leggero del nostro pianeta, gli scienziati ritengono possibile che TRAPPIST-1D contenga ancora piccole quantità di acqua liquida, anche se i suoi vecchi mari sono probabilmente evaporati molto tempo fa. Proxima Centauri B Vicino, vicinissimo, Proxima Centauri. Nessun'altra stella si avvicina al Sole quanto questo oggetto scintillante nella costellazione del Centauro. Nel dettaglio, la distanza tra i due corpi celesti ammonta 4247 anni luce. Quello che a prima vista sembra un salto astronomico, tuttavia, significa un tempo di viaggio di oltre 6.000 anni con le nostre attuali tecnologie di propulsione. Nell'estate del 2016 è stato nuovamente confermata l'esistenza del compagno planetario Proxima Centauri B, che ha almeno 1,17 masse terrestri e stima poco più di 11 giorni per orbitare completamente intorno alla sua stella madre. Ma proprio come TRAPPIST-1D, questo pianeta ha probabilmente una rotazione vincolata. Pertanto, la vita potenziale dovrebbe essersi evoluta nella zona temperata che si trova tra il lato diurno e quello notturno. Considerando un albedo pari a zero, gli esperti hanno calcolato che la temperatura superficiale del pianeta è di una ghiacciante meno 39 gradi. Se il corpo celeste ha un'atmosfera propria, questa potrebbe risultare sostanzialmente meno gelida grazie all'effetto serra. Inoltre, la composizione finora inesplorata dell'atmosfera gioca un ruolo decisivo per quanto riguarda la presenza di acqua liquida. Il senso superiore Infine, vorremmo dedicarci a una domanda finora tralasciata. Che cosa significa la ricerca di corpi celesti simili alla Terra? Da un lato, le realizzazioni che i ricercatori ottengono a questo proposito possono avvicinarci alla risposta a una domanda che probabilmente è quanto l'umanità stessa. Siamo soli nell'universo? Data l'enorme diversità del cosmo, è possibile che la Terra sia l'unico corpo celeste che ospita la vita. Tuttavia, soddisfare la nostra sete di conoscenza non è affatto l'unico fattore che spinge la ricerca di nuovi pianeti. Se esperti rinomati come Stephen Hawking hanno ragione, la scoperta di una seconda Terra equivale alla sicurezza della sopravvivenza della nostra specie. La nostra patria terrestre potrebbe trasformarsi a causa di impatti di asteroidi, pandemie e cambiamenti climatici, in un luogo ostile alla vita, gettandoci nella rovina. In questo contesto, l'umanità dovrebbe continuare a cercare una nuova casa. Ma viste le enormi distanze che ci separano dal prossimo corpo celeste potenzialmente abitabile, si potrebbe pensare che la colonizzazione di altri pianeti rimarrà per sempre una chimera. Tuttavia, non dobbiamo commettere l'errore di sottovalutare il futuro sviluppo di tecnologie di propulsione rivoluzionarie. Se e quando i viaggi spaziali interstellari diventeranno realtà è ancora da vedere, ma è chiaro che il campo delle missioni spaziali con equipaggio è ancora agli inizi. Sono passati solo 62 anni da quando Yuri Gagarin, il primo essere umano, lasciò il nostro pianeta blu e si tuffò nella gigantesca distesa dello spazio. È arrivato il momento di tuffarsi nell'immensità dei commenti. Cosa ne pensi degli esopianeti potenzialmente adatti alla vita? Pensi che un giorno l'umanità si trasferirà su un altro corpo celeste? Lasciaci i tuoi pensieri, suggerimenti e commenti sul video di oggi nei commenti. Hai voglia di altri contributi interessanti a tema spazio? Allora dai un'occhiata agli altri video del nostro canale, che abbiamo linkato per te nei titoli di coda. E con questo grazie per aver guardato, stammi bene e alla prossima.